Ciao ragazzi, oggi video in esterna, sono fuori nel cortile di casa video un po' in ritardo per parlare di Juventus Women, anzi Pomigliano Juventus Women allo stadio Ugo Gobbato, una bella vittoria per le Bianconere che liquidano appunto le campane con un risultato abbastanza netto 5 a 0 risultato che sta molto stretto alle Bianconere che sbagliano due rigori, uno a inizio partita con Martina Rosucci uno invece a fine partita sul 4 a 0 con Zamanian tra l'altro su Zamanian io ho un discorso a parte nel senso che io sinceramente non farei mai 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 ma proprio mai, ma neanche proprio mai 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 ma manco se vuole far tirare un calcio di rigore a una giocatrice a un giocatore che entra a freddo come è successo appunto oggi con Zamanian che ha tirato un rigore appena entrato fortunatamente la partita si è risolta bene io devo capire ancora il primo gol a chi verrà segnato se autorete come penso o gol di Valentina Cernoia il fatto sta che sul cross di Cernoia siamo passati in vantaggio su Papera del Portiere abbiamo avuto delle buone occasioni, siamo riusciti a raddoppiare con Urtig e nel secondo tempo la Juve ha dilagato con il gol stavolta tutto suo di Cernoia grandissimo gol di Buonasera per il 4 a 0 e rete di Saragama che festeggia così il rinnovo fino al 2024 per il 5 a 0 vittoria pesante che ci permette di mantenere Sassuolo e Roma a 8 punti e Sassuolo tra l'altro che ha distrutto, disintegrato la Fiorentina con un 6 a 1 micidiale a Firenze Fiorentina che arriverà sabato a Torino molto 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 con la bava alla bocca quindi bisognerà fare molto molto attenzione e niente, per il momento godiamoci questa vittoria godiamoci la nostra vetta delle women che continuano a macinare punti e godiamoci anche l'esordio di Giulia Grosso che secondo me dal sabato potrebbe anche insidiare un posto da titolare molto probabilmente giocherà titolare fino alla fine Forza Juventus Women, migliore in campo oggi la mia migliore in campo, Valentina Cernoia ciao a tutti